eccoci e bentornati sul mio canale nuova breaking news su call of duty world war 2 in questi giorni si sta parlando tantissimo e mi state chiedendo tantissimo in merito alla bomba atomica ad una sorta di nuclear che potremmo trovare all'interno del multiplayer di call of duty world war 2 praticamente la sledgehammer games ancora non ha dato informazioni in merito ma stranamente negli ultimi giorni è apparso un post su un personaggio molto importante su twitter che potrebbe dar adito a qualche bel rumors veramente molto ma molto interessante sta parlando di krng apollo quindi carnage apollo per chi non lo conoscesse è il fondatore proprietario e leader del clan dei carnage famosissimo clan competitive praticamente sul suo post di twitter ha messo alcuni giorni fa non dimenticare la tua storia cod world war 2 e fa un chiaro riferimento al 6 agosto 1945 che cosa è successo il 6 agosto del 1945 durante la seconda guerra mondiale che c'è stata dal 39 al 1945 una bomba americana chiamata b 29 scoppiò nella città giapponese di roshima e questa praticamente fu la prima bomba atomica esplosa al mondo quindi veramente molto strano questo post che ha fatto carnage apollo in questi giorni di rumors appunto sulla nuclear di call of duty world war 2 è veramente una coincidenza molto ma molto strana questo quindi potrebbe far pensare anche perché poi mi sono andata a leggere tutti i vari commenti che ci sono stati sotto a questo post ad una bomba atomica all'interno di call of duty world war 2 a 25 kilo streak al momento la sledgehammer games e michael condreia e glens coffield ancora non hanno rilasciato informazioni in merito sta certo che questo post e questa indiscrezione comunque ci fanno veramente ben sperare per il gioco finale qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate se vi piacerebbe una bomba atomica a 25 o 30 kilo streak e che cosa vi piacerebbe accadesse all'interno della mappa e noi ci vediamo con tanti nuovi video ciao 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 Grazie a tutti.